Se è vero che la pandemia ha portato allo scoperto una crisi antropologica senza precedenti, anche e soprattutto nel modo di relazionarsi con gli altri, l'unico antidoto contro l'individualismo è l'educazione e lì risiede la possibilità di dare speranza. È questo il cuore dell'appello lanciato da Papa Francesco nel videomessaggio trasmesso durante l'incontro virtuale alla Pontificia Università Lateranense promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Era a settembre del 2019 quando il Papa aveva proposto un comune patto educativo lanciando per questo un evento mondiale che avrebbe dovuto tenersi il 14 di maggio ma è stato rimandato proprio a causa della situazione sanitaria. La pandemia, ha sottolineato il Papa, ha incrementato un divario educativo già allarmante con circa 10 milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola o che non hanno accesso ai dispositivi digitali. È dunque il momento di superare semplificazioni e logiche meramente ripetitive per generare processi creativi in cui ospitalità, solidarietà intergenerazionale e valore della trascendenza fondino una nuova cultura. Ogni cambiamento richiede un percorso educativo e l'educazione rompe la logica dell'indifferenza. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. Concretamente l'impegno che il Papa chiede si declina in vari punti. Mettere la persona al centro di ogni processo educativo, ascoltare bambini e giovani, favorire la partecipazione all'istruzione di bambine e ragazze, vedere nella famiglia il primo soggetto educatore, accogliere gli emarginati, trovare altri modi per intendere economia, politica e progresso nella prospettiva di un'ecologia integrale, coltivare la casa comune con stili più sobri secondo principi di sussidiarietà, solidarietà ed economia circolare. Non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di molta comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Grazie. Grazie.